Benvenuti al TGLIS della Giunta Regionale della Basilicata. La Task Force comunica che ieri 9 luglio sono stati effettuati 217 test per l'infezione da Covid-19, risultati tutti negativi. Con questo aggiornamento i casi di contagio in Basilicata restano tre. Nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza sono ricoverate tre persone, una residente in Basilicata e conteggiata nel totale degli attivi, le altre due di nazionalità estera e provenienti da stato estero. I cittadini lucani in isolamento domiciliare sono due. Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 371 guariti, 27 deceduti e due persone di nazionalità estera e provenienti da stato estero in isolamento in Basilicata, entrambe ricoverate all'ospedale San Carlo. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 41.973 tamponi, di cui 41.550 risultati negativi. Il prossimo aggiornamento domani 11 luglio. Miodulo Mio 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 Grazie a tutti.